Buongiorno e buon caffè. Non ho mai nascosto i miei limiti, anche di sopportazione e di pazienza. Siccome sono limiti, non dovrebbero essere così, dovrei effettivamente sforzarmi di approvare, apprezzare gli altri, cogliere negli altri quella scintilla che faccio molta fatica a vedere. Ad esempio, qui in montagna, in questo posto quieto, ci sono alcune persone che proprio faccio una grandissima fatica a reggere. Ma proprio di cuore, di pancia, è uno sforzo notevole quello di non digrignare i denti ogni volta che le incrocio. E non ci sono alibi particolari, perché sono alibi quello di dire che si comportano male. Comportano male poi perché? Secondo i miei giudizi. Ora, quello che capita è che persone che stimiamo, che apprezziamo, sono molto amici, proprio di costoro che io faccio una gran fatica a reggere. E qui allora scatta un meccanismo. Perché anche noi siamo amici di persone stimate e magari qualcuno non ci regge, non regge questa spocchia che probabilmente posso sprigionare in qualche modo. Allora, quello che ho capito è che i nostri amici li amiamo per come sono. Chissà per quale ragione sono diventati i nostri amici, chissà per quale ragione lo sono ancora. Eppure per i nostri amici siamo pronti a combattere. I difetti dei nostri amici li consideriamo tutto sommato tollerabili, superabili, perché l'affetto che ci lega loro li annacqua, li rende comunque un elemento di contorno, una caratteristica. È fatto così, va bene, li voglio bene comunque. E allora perché non possiamo farlo con gli altri? E allora perché non riesco a farlo con gli altri? E allora perché non cerchiamo, non cerco di estendere questa comprensione a chiunque? Buongiorno e buon caffè!